Maria De Filippi svela, ecco cosa ne penso di Totti e di Larry. Maria De Filippi rimane sempre una delle conduttrici più amate in assoluto. Per la prima volta, Maria ha rilasciato un'intervista nella quale si è raccontata, sotto ogni aspetto, parlando di sé, del suo lavoro ma anche di quello che pensa. Sul divorzio inaspettato tra Francesco Totti ed Ilari Blasi. Inoltre, la conduttrice ha parlato anche delle sue più grandi paure e delle dipendenze che ha affrontato in passato. Al magazine Oggi, Maria De Filippi ha rilasciato una lunga intervista, nella quale ha parlato di sé, del suo presente, del suo lavoro, delle paure e delle dipendenze che ha affrontato, ma anche del divorzio tra Ilari Blasi e Francesco Totti. All'inizio dell'intervista, la conduttrice ha svelato di avere costruito una corazza negli anni. Nonostante questo, però, non è diventata immune agli ostacoli e ai dolori della vita, né alle paure che ha sempre avuto. La De Filippi ha spiegato che la vita sbatte comunque in faccia a tutti, le proprie paure più grandi. Il suo più grande terrore è sempre quello della morte e non è mai riuscita a sconfiggerlo. Maria ha spiegato che la sua paura risale a trent'anni prima, quando ha perso il padre in maniera inaspettata. È stato il primo grande dolore che ha affrontato e non è mai riuscita a metabolizzare del tutto. La De Filippi ha detto di aver affrontato la cosa mettendoci un tappo e non pensandoci, come ha fatto al momento della scomparsa della madre, quando ha chiuso a chiave in un armadio tutte le sue cose più care. Dopo queste rivelazioni molto personali, la conduttrice ha espresso la sua opinione, anche sul divorzio tra Francesco Totti ed Ilari Blasi. Nell'intervista, si è detta dispiaciuta per i loro tre figli e per quello che inevitabilmente dovranno affrontare, anche dal punto di vista mediatico. Per il resto, però, crede che nella vita tutto abbia un inizio e una fine. Maria De Filippi, durante l'intervista al Magazine Oggi, ha anche svelato per la prima volta quali sono le sue dipendenze. Una delle più importanti è quella dal fumo, di cui non è riuscita a liberarsi completamente. Nonostante faccia meno uso delle sigarette rispetto al passato, comunque ne fuma ancora una dopo pranzo ed una dopo cena. La conduttrice ha rivelato che prima era abituata a fumare molto di più, ma si è spaventata quando le è stato diagnosticato un polipo alle corde vocali. Immediatamente è andata da un esperto, il quale le ha detto che si trattava di un problema benigno, ma che comunque il fumo avrebbe potuto danneggiarla. Da allora Maria ha provato a gestire meglio la situazione, come ha fatto per l'altra sua dipendenza, ossia quella dalle serie TV. Guardava un episodio dopo l'altro ma è riuscita ad allontanarsene quando ha capito che non si arrivava mai ad un finale, ma ogni scena serviva per dare luogo ad una successiva. La conduttrice ha anche parlato di Tussi Kevales. Nelle puntate che andranno in onda d'autunno, ha fatto una sfuriata durissima ad un signore, che è andato lì per mostrare i suoi quadri in televisione, fingendo invece di voler aiutare una redattrice. Maria ha spiegato che non ama perdere il controllo ed infatti si è pentita di aver reagito così, ma comunque tutto andrà in onda e sarà regolarmente mostrato ai telespettatori. Voi che cosa ne pensate? Vi è piaciuta questa intervista alla De Filippi e condividete ciò che ha detto, anche sul divorzio di Francesco Totti e di Lariblasi? A voi i commenti! Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.